Allora, Presidente, cosa ne pensa delle parole di Giorgia Meloni in merito al fatto che in giunta ci sarà sicuramente un ruolo più centrale da parte di Fratelli d'Italia? Beh, sì, come è molto probabile, avranno molti voti e è normale che abbiano anche un maggior numero di assessori, quindi chiaramente più dei due che hanno avuto prima la scorsa legislatura. Grazie a tutti.